C'è chi le sparge in mare, chi le conserva in un'urna, chi le fa brillare in cielo con speciali fuochi d'artificio e siamo ormai abituati a non stupirci più per notizie simili. Ma l'idea di Sandy ha dell'originale. Rimasta vedova a soli 26 anni, perdendo il marito in un tragico incidente stradale, la ragazza ha convinto il suo chirurgo plastico ad impiantare delle protesi speciali per la sua mastoplastica. Infatti, tali protesi contengono le ceneri del defunto consorte, mescolate al solito silicone. La giovane ha dichiarato che in questo modo sentirà sempre con sé il compianto conge, almeno fino alla prossima sostituzione di tali protesi, perché anche se l'amore è eterno, le protesi no e quando dovranno essere sostituite, verranno costudite in un apposito cofanetto.